buongiorno a tutti allora magliettina del gigione perché l'ultima volta che la faccio vedere per quest'anno poi l'anno prossimo chi lo sa il futuro è un'ipotesi potrei usarla di nuovo potrei non usarla potrei averne di nuove chi lo sa comunque maglietta del gigione con la frase è la sedia ragazzi non pensate male e di che cosa parleremo in questo video ma naturalmente del campionato del mondo femminile perché ce ne sono le succedono delle belle come diceva qualcuno le succedono delle belle ci sono disputate le ultime due partite del girone h per chiudere la seconda giornata delle tre previste essendo gironi d'alta quattro squadra ci sono tre partite a contro b a contro c c contro di a contro b a contro c a contro di b contro c e c contro di quindi si devono affrontare un po il crocino su quattro squadre primo scontro la 1 contro la 4 la 2 contro la 3 poi la 1 contro la 2 la 3 contro la 4 eccetera 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 quindi è la seconda giornata gruppo h che comprendeva corea del sud e marocco e germania e colombia e poi ci sono state le sfide le ultimissime quelle che avrebbero dovuto che dovrebbero decidere il girone del gruppo a quello con norvegia filippine e svizzera svizzera nuova zelanda quindi partiamo anche se si sono giocate un po si è giocata prima la partita del gruppo h corea marocco poi ci sono giocate le due partite decisive del gruppo a norvegia filippine svizzera nuova zelanda e poi si è giocata germania colombia per il gruppo h però siccome dobbiamo stare sul gruppo h e poi sul gruppo a che partiva con l'ultima serie di gare del gironi facciamo prima corea del sud marocco e germania colombia e poi andremo a parlare di norvegia filippine svizzera nuova zelanda non vi spoilerò nulla nella classifica fino alla fine che abbiamo fatto tutte le partite perché naturalmente giocandosi l'ultima giornata del gruppo a avremo i responsi chi passa e chi fa ma ciao ma ciao ma ciao qualcuno aveva già fatto ma ciao però lo vedremo dopo partiamo con corea del sud marocco quindi andiamo subito alle immagini la gara l'ho anche guardi tu ho vista due minuti due minuti al massimo perché ha voluto a pura l'ho voluto fa bene perché se qualcuno lo va bene non capita ma se qualcuno va bene che figura ci faccio io limitazione di francesco salvi tanti 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 anni fa e temo che quello che invitava è il fratello che ci ha lasciato perché sono i due fratelli no che fanno i picci dei panettoni e ci facevano questi noi faceva questa imitazione comunque bando alle ciance ciance alle bande andiamo a vedere come è andata a corea la repubblica di corea marocco 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 naturalmente per il campionato mondiale femminile pronti via neanche il tempo di dire buongiorno arriva un cross dalla destra si tuffa volo già ad angelo in stile jürgen klisman la giocatrice del marocco spissa la palla e la spedisce sul secondo palo all'angolino gran bel gol anche il bronzo di riace il bronco di riace ha ammirato ha ammirato parecchio perché è veramente un bel gol il cross dalla dalla destra lei che si butta pesce tocca al pallone lo spizza come si suol dire e lo manda nell'angolino quindi marocco in battaggio poi c'è un'altra azione sempre del marocco con un tentativo di autogollonzo della giocatrice cinese che fa un colpo di testa all'indietro che per sopporto una termina sulla sulla parte alta della traversa sulla rete quindi sopra la traversa sulla rete poi c'è la giocatrice cinese che prova a emulare con un volo d'angelo colpo di testa in tuffo la collega del marocco ma colpisce malissimo palla sul fondo occasionissima per la ancora per il marocco con un tiro da posizione favorevolissima accalciata alle stelle uscita un po' così così del portiere coreano che mette anzi del portiere del marocco che mette praticamente la palla sui piedi della giocatrice dell'uscita del portiere coreano che esce male la palla resta lì a disposizione della giocatrice del marocco che però calcia alto poi c'è un'occasione per la corea con un tiro sul fondo senza pretese poi l'occasionissima ancora per il marocco ben servita in area sola soletta calcia sul fondo ed è questa l'ultima occasione di questa gara che termina 1 a 0 con vittoria del marocco sulla corea poi andremo a vedere la classifica del gruppo H dopo questa partita ma ce n'è stata anche naturalmente un'altra che era Germania-Colombia andiamo a vedere come è andata Germania-Colombia perché anche qui devo dire io l'ho già vista o meglio ho visto gli highlight e anche qui non dico niente non dico niente ma mi sono illibididito quindi diciamo che mi sono illibididito per le giocate perché poi vabbè sono ragazze sono ragazze quindi sono giovani alcune si fanno guardare altre un po' meno ma d'altronde non siamo a Miss Italia siamo su un campo di calcio quindi devono sapere giocare bene a calcio se poi sono pure gnocche tanto meglio comunque pronti via prima occasione solo al 41esimo per la Germania è la numero 11 o 21 11 dovrebbe essere si mangia un gol clamoroso perché praticamente su un rimpallo si trova il pallone giusto al limite dell'aria piccola neanche l'area gran l'area piccola perché arriva a sto tiro cross lei è defilata sulla destra all'altezza dell'area piccola un po' spostata dalla porta ma sempre al limite dell'area piccola quindi sei in posizione da libidine gli arriva a questo pallone un po' così così perché arriva da una deviazione ma sei da sola puoi calciare come vuoi come lo calci lo calci sul fondo della ripresa signori miei arriva il golasso un golasso della colombia l'indaci poi dopo vi dirò come si chiama comunque si chiama l'indaci allora controlla la palla in area ha due giocatrici addosso finta controfinta se le beve perché praticamente nessuna delle due riesce a intervenire calcia palla a giro che va a finire letteralmente sull'incrocio dei pali e poi in gol cioè meglio di così non lo poteva tirare incrocio dei pali pieni e palle in rete poi la Germania pareggia su calcio di rigore bella azione colpo di tacco a liberare la compagna che salta al portiere netto la numero 6 salta al portiere è netto che classica uscita del portiere tu tocchi la palla gliela sposti lui ti prende in pieno quindi il rigore trasformato dalla 11 in maniera perfetta quindi erano sull'1 a 1 dopo il calcio di rigore al 96esimo e 30 secondi con un recupero di 6 minuti quindi ha dato 30 secondi di troppo sull'ultima azione cross in mezzo sinerbica la giocatrice della Colombia la schiaccia letteralmente di testa e la mette nell'angolino e dopo 14 minuti di recupero nella T6 alla fine ha giocato per 14 minuti la Colombia batte 2 a 1 la Germania e ora per le tedesche sono uccelli per diabetici mi sa tanto proseguiamo ragasoli perché dopo il gruppo H che poi andremo a vedere poi naturalmente vi dirò anche le marcatrici precise dopo che vi ho fatto l'epilogo classifica andiamo a vedere le partite che hanno deciso il gruppo A non vi dico com'è la situazione classifica ma andiamo a gustarci Norvegia Filippine Filippine che teoricamente dovrebbero essere già eliminate e norvegesi che si giocano naturalmente la qualificazione e andiamo a vedere come sempre stadi gremiti pubblico delle grandi occasioni comunque già al sesto minuto pallone buttato in aria un po' così la palla arriva sul secondo palo alla giocatrice norvegese che inestirata come si suol dire palla arriva praticamente all'interno dell'area piccola defilata sulla sinistra arriva in scivolata e gli riesce un pallonetto beffardo che batte il portiere delle Filippine azione similare cross ancora dalla tre quarti palla spiovente colpo di testa della giocatrice norvegese a palombella un po' come quel gol di Ciccio Graziani al Camerun di tanti anni fa al mondiale dell'82 solo che dall'altra parte poi arriva anche il terzo gol delle norvegesi con un tiro a incrociare dai 20 metri molto molto bello con palla letteralmente all'angolino basso imparabile nella ripresa pronti via autogollonzo clamoroso cross dalla sigla dalla destra la prendo la prendo la prendo la manca con il destro la tocca col sinistro la palla termine in rete poi c'è un calcio di rigore per la norvegia per una spinta netta in area ben calciato dalla numero 11 che spiazza letteralmente il portiere palla alla destra del portiere portiere a sinistra e infine proseguendo proseguendo c'è anche un fallaccio nella giocatrice filippina al 67esimo e quindi filippine pure in 10 per cartellino rosso e poi al 94esimo e 40 altro colpo di cross stavolta dalla sinistra colpo di testa molto bello perché la compagna gli salta davanti ma non la prende lei salta un attimino dopo salta più in alto della sua compagna la schiaccia di testa e la mette in rete quindi ragazzi norvegia filippine 6 a 0 andatela a vedere perché sono tutti gol di pregevole fattura meditate gente meditata poi c'è il gol della dell'altra sull'altra partita quella del marocco che anche quello non è niente male come pure il gol della colombia al primo bel gol sicuramente dal libidine e concludiamo ragasoli dopo norvegia filippine 6 a 0 che dovrebbe aver qualificato la norvegia ma poi lo vedremo c'era svizzera nuova zelanda ultima partita della giornata di ieri per il gruppo a che avrebbe dovuto decidere anche qui perché è l'ultima giornata quindi nuova zelanda svizzera si giocavano la qualificazione e andiamo a vedere com'è andata ricordiamo che il mondiale si gioca in nuova zelanda e in australia assieme quindi la nuova zelanda è la una delle due squadre organizzatrici del torneo e quindi magari ci terrebbe ad andare avanti e infatti attacca subito lancio lungo palla che passa tiro al volo e palo pieno palo interno pieno da parte della nuova zelanda lancio lungo è scattata ad anticipare tutti la ha calciato proprio a palombella da posizione anche interessante e la palla ha sbattuto in pieno sul palo col portiere battutissimo occasionissima quindi per la nuova zelanda che insiste calcio d'angolo fagiolata ma nessuna riesce a ribadire il pallone in rete dopo una tripla carambola tra le giocatrici una specie di colpo di testa poi la palla rimbalza come un flipper in mezzo a due giocatrici svizzere per poi terminare per essere allontanato finalmente si vede la svizzera con un tiro da fuori area velleitario ben bloccato dal portiere comodamente così occasione anche per la nuova zelanda ma un altro tiro bloccato anche questo abbastanza comodamente dal portiere non è che hanno fatto chissà che cosa di eclatante la nuova zelanda però insiste e persiste altro calcio d'angolo colpo di testa e portiere proprio come raccogliere il melone tranquillamente insiste ancora la nuova zelanda all'ottantasettesimo altro tiro a giro che il portiere blocca come bere un bicchier d'acqua diciamo che si è stata impegnata il portiere della svizzera ma poca roba infine al novantacinquesimo si butta in attacco anche il portiere neozelandese e addirittura fa il colpo di testa ma la palla termina nettamente sul fondo quindi svizzera e nuova zelanda fanno 0 a 0 e temo ma non dico nulla andiamo a vedere le classifiche adesso la situazione del gruppo h ha una giornata dalla fine e la situazione del gruppo h ha dato i primi risponsi quindi classifica del gruppo h dopo due giornate la colombia ha 6 punti germania e marocco hanno 3 punti la corea del sud ha 0 punti l'ultima giornata del gruppo h vedrà affrontarsi marocco colombia e corea del sud germania quindi marocco dicevamo ha 3 punti la colombia ha 6 punti la germania ha 3 punti e la corea è a 0 quindi sulla carta la germania con la corea dovrebbe vincere ma attenzione che all'ultimo mondiale la corea vinse 2 a 0 mandò a casa i tedeschi e andarono a casa anche i coreani quindi attenzione che potrebbe capitare la stessa cosa il marocco ha 3 punti quindi si gioca le sue chance con la colombia e la colombia e no ragazzi non si può fare il biscottone perché conta la differenza reti e non lo scontro diretto quindi per cui se la germania magari batte la colombia e la corea del sud in maniera netta e raggiunge colombia e marocco a pari punti e si guarda la differenza reti c'è il rischio che marocco e colombia lo prendano in quel posto quindi tutti devono giocare la loro partita devono cercare di vincere la gara si gioca da giovedì 3 agosto vedremo come andrà sulla carta la germania tutte le sue chance ancora di poter andare agli ottavi andiamo nuovamente alla classifica state che torno indietro perché ero di qua e andiamo al gruppo A che è ormai concluso gruppo A che vedeva la Svizzera a 4 punti prima della gara la Norvegia aveva un solo punto no aveva 3 punti la Nuova Zelanda aveva 3 punti e le Filippine avevano 3 punti prima dell'ultima giornata quindi Svizzera a 4 Norvegia e Nuova Zelanda Norvegia 1 Nuova Zelanda 3 Filippine 3 prima della giornata prima che si giocasse questa giornata poi dopo questa giornata la Svizzera ha pareggiato con la Nuova Zelanda è andata a 5 punti la Norvegia ha battuto le Filippine la Norvegia era a 1 ed è andata a 4 punti la Nuova Zelanda era a 3 ha pareggiato con la Svizzera è andata a 4 punti e le Filippine e le Filippine erano a 3 e restano a 3 quindi la Svizzera vince il girone con 5 punti Norvegia e Nuova Zelanda terminano a pari punti però la Nuova Zelanda aveva vinto e perso 1 a 0 ha perso 1 a 0 con le Filippine e aveva vinto 1 a 0 con la Norvegia e poi ha fatto 0 a 0 con la Svizzera aveva si battuto la Norvegia clamorosamente 1 a 0 ha perso con le Filippine 1 a 0 e quindi aveva 3 punti la Norvegia aveva pareggiato con la Svizzera e perso appunto con la Nuova Zelanda all'esordio e adesso dopo questa vittoria per 6 a 0 contro le Filippine la Norvegia ha una differenza reti nettamente superiore a quella della Nuova Zelanda quindi la Nuova Zelanda vena le tolle e Svizzera e Norvesia passano il turno Svizzera come prima Norvegia come seconda vedete che tutto può accadere una Zelanda era ultima prima dell'ultima giornata la Nuova Zelanda aveva solo un punto le Filippine era 3 cioè scusate la Norvegia non la Nuova Zelanda la Svizzera 4 Nuova Zelanda Filippine 3 Norvegia 1 alla fine Svizzera 5 Norvegia 4 Nuova Zelanda 4 Filippine 3 e la Nuova Zelanda va a casa una delle due squadre ospitanti il mondiale va a casa vedremo l'Australia se invece si riuscirà a qualificare per gli ottavi o meno bene ragazzoli adesso dobbiamo andare a vedere i marcatori delle quattro partite partendo appunto da Corea del Sud Marocco bel colpo di testa dal della Iraidi Iraidi Ibisab Iraidi colpo di testa in tuffo con palla nell'angolino gol da il Bid poi proseguiamo andiamo per ordine quindi Germania Colombia perché facciamo prima il gruppo H poi andiamo al gruppo A Germania Colombia la Linda Caicedo segna il golasso ragazzi andatevi a vedere il gol di Linda Caicedo perché merita fitta controfitta palla giro croce dei pali gol poi la Pop come sempre pareggia per la Germania calcio di rigore perfetto portiere che si tuffa lei glielo tira centrale leggermente alto senza esagerare in modo che anche se usa il piedino non riesce a prenderlo e pareggia e poi la Manuela Vanegas al 97 con quel colpo di testa che vi ho raccontato regala la vittoria alla Colombia e riapre il mondiale anche della Colombia e adesso ci sarà da ridere veniamo a Norvegia Filippine 6 a 0 battatrice la Aug gol al sesto cross che arriva pallonetto gol al 17esimo di testa ancora a pallon a pallonbella poi segna la Graham Hansen con il tiro da fuori al 31esimo poi arriva l'autogollonzo che vi ho raccontato entra in scivolata per prendere il pallone con la gamba destra la palla passa sotto prende con la sinistra la butta in rete poi il gol della Reiten su calcio di rigore e infine al 96esimo ancora la Aug segna di testa se non ricordo male il gol del 6 a 0 infine è finita 0 a 0 la gara tra Svizzera e Nuova Zelanda quindi non ci sono marcatori e possiamo chiudere qui il video ma prima vi dico le gare che si disputeranno della notte anzi da stamattina in poi si giocherà Giappone Spagna Costa Rica Zambia Irlanda Nigeria e Canada Australia che sono partite valide per il gruppo B e il gruppo C Giappone Spagna ormai il gruppo C è già deciso si sa già quali sono le due squadre che passano ci sono da vedere chi è prima e chi è seconda nel gruppo B invece tu è tutto in divenire a parte l'Irlanda che è già eliminata quindi le gare sono Irlanda Nigeria e Canada Australia la Nigeria potrebbe approfittare del fatto che l'Irlanda è già eliminata per fuggire mentre invece Canada Australia ragazzi miei l'Australia deve vincere se no a casa e sarebbe clamoroso tutte e due le squadre ospitanti il mondiale a casa quindi attenzione all'arbitraggio speriamo non ci sia un Byron Moreno al femminile che fa in modo che l'Australia non si sa mai proprio perché tutte le due squadre ospitanti il mondiale a casa è vero che c'è entusiasmo è vero che gli stadi sono abbastanza gremiti però capite che se non ci sono più le due squadre ospitanti l'interesse potrebbe scendere vedremo 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 come andrà gli orari delle partite sono poi non ho capito perché debbano fare ah beh Giappone Spagna Costa Rica Zambia alle 9 quindi prima al gruppo C alle 9 gioca al gruppo C a mezzogiorno gioca al gruppo B con Irlanda Nigeria e Canada Australia anche qui l'orario in contemporanea conta poco perché ragazzi miei l'Australia ha tre punti è vero che se eventualmente l'Irlanda dovesse fare la partita della vita e battere la Nigeria a quel punto potrebbe essere sufficiente il pareggio per entrambe le squadre per passare il turno però teoricamente potevano farle anche orari separati così che soprattutto il gruppo B tanto Giappone Costa Rica Zambia sono già eliminate questa è una partita che serve solo ed esclusivamente per vedere quale delle due arriva ultima nel girone Giappone Giappone e Spagna si giocano il primo posto con la Spagna che si può accontentare anche del pareggio perché ha un gol in più di differenza rete rispetto al Giappone più 8 contro più 7 vedremo come andrà per il momento vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima andatevi a vedere i gol perché veramente meritano non sia quelli tutte e tre le partite che hanno segnato quindi sia Germania Colombia che Norvegia Filippine che Corea del Sud Marocco andatevi a vedere i gol perché meritano ve lo dico sinceramente meritano il gol del 3 a 0 norvegese penso che anche un portiere della Serie A o del Bundesliga della Premier eccetera non so se l'avrebbe preso perché l'ha tirato veramente veramente bene magari gli altri due portieri sono un po' più alti e riescono a usare le manine un attimino meglio che non io quando vedo i portieri le ragazze in porta che si arrivano già a un metro ottanta e tanto mi metto un attimino nei loro panni in una porta così grande parare non è semplice io mi è capitato di una volta sola di giocare in un campo a 11 ho preso 6 gol quando abbiamo giocato con la nazionale degli youtuber abbiamo perso 10 a 6 ma ci sta perché purtroppo eravamo senza cambi e la maggior parte dei ragazzi aveva l'autonomia di mezz'ora e infatti temevo che qualcuno nonostante avessero la metà dei miei anni ci lasciasse anche la pelle perché veramente hanno dato tutto e di più sul campo ma avremmo avuto bisogno di qualcuno che li facesse rifiatare ogni tanto almeno un cambio cosa che invece la nazionale hip hop aveva e infatti loro cammin facendo ci hanno messo sotto vabbè lasciamo perdere ci vediamo alla prossima ciao